Buongiorno, siamo qui oggi in una giornata molto importante in casa Monterosi FC perché diamo il benvenuto al professore dottor Stefano Lovati, ricordiamo che è stato responsabile ortopedico della Lazio dal 2006 al 2017 e responsabile attuale della clinica Sporta Epadeia a Roma. Sarà lui con il suo staff a collaborare tutta la parte ortopedica del Monterosi. Passo la parola al Presidente per dare il benvenuto al professore. Io dicendo una di quelle cose che si dicono in questi casi, ma è vera, mi sento onorato di avere una tale partecipazione a questo livello, lo so che il professore è una persona seria ma con me perderà questa capacità inespressiva perché secondo me è un limite immediato e adesso lo devo mantenere per forza. Monterosi avrà una marcia in più anche nello staff, giusto? Ma noi si metteremo del nostro, io il mio staff, attraverso anche la clinica Paideia, cercheremo di dare quel supporto importante che questa solità merita, perché comunque lo scopo è quello di salire, no? Salire, salire, salire in categoria, cosa che l'altro anno da quanto ho capito ha sfiorato per poco. Lo sfioriamo sempre. Quest'anno bisogna raggiungerlo. E non abbiamo avuto una buona educazione asessuale. Quindi, professore, Monterosi e Paideia, un connubio che inizierà da ora, spieghiamo un po' come si relazionerà la società con il vostro staff. Noi diamo supporto a H24 su tutto quello che concerne, nel mio caso, chiaramente le problematiche ortopediche, ma comunque la Paideia si è messa in prima fila anche per risolvere delle problematiche non strettamente correrate al problema ortopedico e quindi qualsiasi tipo di patologia, diciamo così, spieghiamo che non debba mai accadere, ma anche di tutte le specializzazioni e le specialità che possono competere alla clinica stessa. Diamo supporto su tutta la chirurgia, diamo supporto su tutta la clinica e anche sulla strumentale. Per cui, insomma, stiamo lavorando, abbiamo lavorato tanti anni, la Paideia continua a lavorare anche con la Lazio, quindi siamo, diciamo, una entità ormai esperta nel campo sportivo. Primo giorno oggi ufficiale in Casa Monterosi, che ambiente hai trovato? Io già ero venuto giorni fa con Ione e ho riconosciuto il Presidente. Coglione, con staccato Ione. No, mi ha interessato il progetto, al di là del discorso fine a se stesso della società, comunque mi sembra che ci sia una finalità e una progettualità interessante. Ok, la ringrazio. Grazie a voi. Posso dire una cosa, cercherò di essere serio, sono veramente felice di avere una collaborazione di questo livello perché evidentemente, al di là dei pregiudizi e dell'incapacità di volare e di sognare, a volte nella vita le persone possono incontrarsi su un livello molto più profondo ed è questo il motivo essenziale che ci ha permesso di essere qua. Quindi una sorta di feeling culturale, animico fra me e il Professore, che ringrazio veramente tantissimo. Grazie, grazie, grazie. Grazie a Stefano Lovati, grazie alla prete. Grazie.